L'intento del Comune era quello di fare cassa. Per quello che mi riguarda ho dato il mio contributo. Cioè in un certo senso la mia famiglia, con la mia famiglia è riuscito a fare un po' di cassa. L'amarezza e la voglia di vederci chiaro nelle storie dei multati del Velox di Cadoneghe. Ieri sera nella puntata di Ring andata in onda su Antenna 3, condotta da Ferdinando Avarino, si è ripercorsa la vicenda protagonista dell'estate padovana. Non è vero che è stata fatta per la sicurezza, non è vero che ci sono tutti questi incidenti, ci sono stati incidenti gravi, mortali, non è vero perché gli incidenti, quelli comunicati e quelli effettivamente verificati, c'è un qualcosa di anomalo. Questo non entro nei dettagli perché c'è un'indagine in corso. I dubbi riguardano il numero effettivo di incidenti avvenuti lungo quel tratto di strada, un elemento fondamentale nella scelta di posizionare il limite e il Velox. Sono stati comunicati 67 ma ne risultano 35, quelli effettivi, quelli che si sono verificati. Ma non mortali e neanche incidenti gravi. Un'altra cosa che mi preme precisare è dire questo. Cioè i controlli, secondo il mio punto di vista e la mia ignoranza, vanno fatti prima che si invia al prefetto i controlli, non dopo. Nessuno sta pagando più le sanzioni. I multati aspettano la perizia proveritate affidata dal comune di Cadonega ad uno studio esterno e che potrebbe portare all'annullamento. Dovrà dire se nel procedimento amministrativo che ha portato all'installazione di questi autovelox si nasconda o si palesa qualche anomalia o qualche lacuna. Se questa lacuna, se queste mancanze saranno determinanti, allora il comune di Cadonega potrà procedere in autotutela alla dichiarazione delle legittimità dei provvedimenti emessi e quindi all'annullamento di tutte le sanzioni. Se dovesse finire così, inchieste a parte e verifiche, che tutte le multe sin qui elevate vengono annullate, come speravate, e i nuovi autovelox dovessero poi mai essere tarati a 70 invece che 50, potrebbe essere una soluzione che vi soddisfa? Inchieste fuori, eh? Ma certamente, potrebbe essere tarato anche i 50 all'ora. Non è questo il problema. Il problema è che i cittadini, per non essere vessati, devono essere informati. E quello che è mancato in questa situazione è proprio una corretta e debita informazione.